EICMA 2022, ritrovo un amico perché ti ho visto anche l'anno scorso, ti abbiamo già intervistato e saperti qui all'EICMA per me è una cosa molto interessante per due motivi, a parte il personaggio che sei tu ma anche perché significa che questa cosa delle moto è un po' trasversale, tu che fai musica, ho visto i tuoi video ci sono sempre dentro ragazzi, ragazzi giovani, è una passione che insomma condividi Sì, è una passione che poi condivido anche con i nostri fan perché tantissimi dei nostri fan come sono appassionati di gaming sono appassionati anche di motorsport e quindi sai poi per me essere sempre invitato da Yamaha che è un brand che comunque accomuna tutte le mie passioni, dal mare alla musica al motorsport, c'è un bello onore quindi sono contento che anche poi l'anno scorso stavamo riprendendo da una pandemia adesso invece c'è più movimento e quindi vuol dire che questa necessità è stata colmata Vedere tanta gente, dici bene, tanta gente, una passione, è un buon segnale secondo te anche pensando ai giovani che magari trovano anche nelle moto un modo per sfogarsi, visto quello che è successo Assolutamente, l'aria aperta come in ogni sport è fondamentale quindi io penso che nell'ultimo periodo i ragazzi anche non avendo eventi del genere a disposizione per poter sfogare le proprie passioni sia fondamentale che esista appunto una fiera e che riprenda il suo giro comune Dovendo scegliere la categoria di moto che preferisci e soprattutto se vai ogni tanto in moto e ti è permesso col tuo lavoro qual'è quella che è in assoluto ti piace? Ciao, ti dico, io sono un amante dello sterrato, quindi andiamo su un YZ, non straffiamo quindi niente, un 450, un 250 YZ va benissimo Senti, approfitto per farti due domande finali quest'anno ICMA ha fatto una campagna di comunicazione che si chiama ICMA Effect cioè ci sono i visi delle persone, lo stupore, i sorrisi ti piace questa idea di mettere la persona ancora più della moto in primo piano? Beh assolutamente sì, è un po' come passare da spettatore proprio ad attore quindi ci sta, ci sta, condividi in pieno Ultimissima domanda, se dovessi con un emoticon definire quello che ti rappresenta maggiormente ICMA o con cui comunichi meglio di tutti, cosa ti viene in mente o cosa usi tu quando usi lo smartphone? Allora, un emoticon che vi rappresenti e che mi rappresenti a questo punto sai è difficile, è difficile, è difficile anche perché non c'ho tutto l'almanaco delle emoticon presente nella mia testa però metterei il diavoletto che fa il ghigno con le sopracciglia là va ciao Grazie a tutti.